Oggi voglio parlarvi della quinta edizione dell'Oltre Lirica Music Festival, un festival che giunge alla sua quinta edizione. Non si è mai fermato neanche gli anni più difficili che abbiamo vissuto a causa della pandemia, ma scopriremo che cos'è, cosa ci riserva questo cartellone insieme ai miei due ospiti. Il direttore artistico dell'Oltre Lirica Music Festival, Gianni Leccese, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buon pomeriggio. E insieme al direttore artistico anche la presidente di Angela Eventi, Angela Cuoccio, l'ho detto bene, benvenuta. Angeli Cuoccio, presidente proprio dell'associazione Angeli Eventi, grazie. Ecco, partiamo subito con lei, Angela, dall'associazione che nasce, con quali obiettivi prima di arrivare poi a quello che è il festival? L'associazione nasce nel 2019. L'obiettivo iniziale dell'associazione era quello di poter proporre operazioni comunque di cultura e di spettacolo. Nel 2019 la nostra vocazione primaria è stata questa, ma in realtà anche in un momento critico come quello che abbiamo vissuto abbiamo avuto la possibilità comunque di andare oltre il main project, che era quello di lavorare sulle attività di spettacolo, ma di lavorare anche sugli aspetti dinamici, di critica e di analisi di quella che è la musica classica e di quella che è la musica contemporanea. Quindi già nel 2020 abbiamo cominciato ad andare oltre il nostro main project, che è appunto quello di Oltre Lirica Music Festival, e a poter proporre attività culturali che andassero dal aver ospitato una mostra del maestro Fausto di Lecchiaie, o comunque ad aver avuto con noi il maestro Emiliano Toso che si occupa di frequenze a 4 e 3 e 2 di campi di guarigione tra l'uso di quelle determinate frequenze e l'attività di recezione del nostro sistema molecolare. Quindi lavoriamo accanto a una dimensione di nascita e di sviluppo dell'opera, ma anche con un atteggiamento di critica e con un atteggiamento di visione di quelle che sono le analisi e rapporti tra musica e evoluzione umana. Ma non solo, quest'anno abbiamo voluto affrontare il tema della musica classica e della musica contemporanea. Quindi portiamo il nostro progetto Oltre Lirica su questa dimensione, infatti quest'anno non saremo semplicemente Oltre Lirica Music Festival, ma saremo Oltre Lirica Music Festival Classic and Contemporary. Le nostre attività prevederanno un momento iniziale di apertura con un convegno il 16 di novembre a Bitonto, presso l'extruttura dei Capuccini e poi trasferiamo la nostra attività in teatro dal 18 di novembre al 12 di dicembre. E poi magari entriamo anche nel vivo di questi eventi. Quelli che stiamo mostrando, io voglio dire ai nostri telespettatori, sono proprio le immagini della conferenza stampa di questa quinta edizione. Direttore che appunto si veste di questa novità. Ecco, come è cambiato in questi cinque anni il festival? Anche in base forse alle risposte, le esigenze che avete avuto proprio dal pubblico che vi segue? Esatto. Il pubblico, noi nasciamo originariamente nel bacino del Tarantino a Grottaglie e abbiamo allestito delle opere nelle cave di Fantiano e le cave di Fantiano sono questo posto stupendo che sicuramente la Regione Puglia non mancherà di valorizzare. Abbiamo subito percepito l'attenzione e la voglia del pubblico di partecipare agli allestimenti di queste opere musicali, opere classiche, all'interno di questi grandi spazi e abbiamo sempre cercato di dare qualche cosa in più rispetto a quello che normalmente non si dava. Questo filone l'abbiamo trasformato, abbiamo lavorato anche su questo attraverso la pandemia e siamo arrivati alla conclusione che il filone che doveva caratterizzare oltre l'Irica Music Festival era quello di attenzione alle nuove produzioni, alle produzioni di opere musicali, siano esse solo esclusivamente strumentali o anche operistiche o di drammaturgia che potessero avere questa connotazione contemporanea, ovvero parlare il linguaggio di oggi per evitare anche di fossilizzare il teatro musicale e di non relegarlo ad un museo delle cere. Forse per questo lo avete definito anche un festival di condivisione a prescindere dalle vostre esperienze che poi portate ma anche probabilmente rispetto a quello che lei mi stava raccontando adesso. Parlando di Regione Puglia, di bellezze che noi abbiamo, voglio sottolineare che questa edizione del Festival ha avuto il patrocino tra gli altri anche di Regione Puglia. Io quindi ascolterei con voi proprio le parole di Aldo Patruno, il direttore del partimento Cultura proprio di Regione Puglia che in occasione della conferenza stampa di presentazione vi ha inviato questo videomessaggio che ascolterei insieme a voi. Sono particolarmente lieto che Regione Puglia sia partner di questa quinta edizione dell'Oltre Lirica Music Festival che nell'arrivare al Teatro Traetta a Bitonto continua nel suo processo di contaminazione. Una contaminazione di luoghi che è estremamente importante insieme a una contaminazione di contenuti perché alla musica classica ormai stabilmente si affianca una ricerca nella musica contemporanea e soprattutto si allarga la rete delle relazioni internazionali che nascono dal lavoro svolto in questi anni, dalla semina fruttuosa che è stata sviluppata attraverso il lavoro artistico della direzione di questo importante Festival che per quanto concerne il sistema culturale pugliese va a collocarsi in una posizione estremamente rilevante nell'ambito della diversificazione dell'offerta, dell'offerta culturale, dell'offerta artistica, dell'offerta musicale e intercetta alcuni degli obiettivi fondamentali che stiamo perseguendo da tempo e che saranno ancora più centrali nella prospettiva dei prossimi anni. L'internazionalizzazione, l'allungamento della stagione attraverso il coinvolgimento di più luoghi, di più territori e di più date, di più mesi e infine una logica di apertura al mondo che la cultura a quale forma eccellente di diplomazia culturale ci consente di perseguire in un momento storico nel quale questo è un bisogno vitale. Buon festival a tutti e buona oltrelirica. Ecco questo è il messaggio che un po' racchiude quello che anche la vostra missione, i vostri obiettivi, vedevo che entrambi insomma avete annuito sentendo le sue parole e mi piace con lei magari affrontare questo aspetto presidente. Questi eventi, Angela, ci diamo del tuo allora così da questo momento non sbagliamo. Angela quanto questi eventi possono diventare a prescindere da come nascono, la passione, quanto possono invece diventare proprio dei punti di riferimento anche per un turismo di prossimità, proprio per dare la possibilità al territorio bitonto in modo particolare di farsi riconoscere sotto altri aspetti. Allora su questo abbiamo lavorato ingenuamente all'inizio senza comunque averne condizione cognitiva perché proprio come ha detto il dottor Patruno, avendo lavorato non con un atteggiamento di identificazione unilaterale sul territorio comunque pugliese, ma volendo far emergere tutte le diversità del nostro territorio, ci siamo trovati nella condizione di dar vita alle nostre attività da quelle tradizionali in estate, come è capitato negli anni passati a Grottaglie, quindi con riscontri di turismo non soltanto di prossimità, ma anche finché c'è stata possibilità ovviamente di una forma di turismo comunque estera, una forma di turismo attenta e bisognosa e vogliosa di voler cercare le caratteristiche pugliesi che andassero anche al di là di quella che era l'eno gastronomia che è un settore sicuramente di eccellenza che noi abbiamo, ma avevano voglia di trovare la tradizione italiana in quella che è la dimensione dell'identità più vivace e selvaggia che il nostro territorio può offrire. Quindi abbiamo avuto questo grande riscontro. Accanto a questo c'è stato invece, come aveva detto anche prima Gianni e come ha sottolineato il dottor Patruno, la volontà di contagiarsi invece c'è con i soggetti autoctoni, con l'attenzione che comunque loro ci pongono, con le domande che loro ci pongono, con le richieste che loro ci pongono e da questo deriva appunto tutto poi il nostro lavoro di ricerca e accanto a questa dimensione ovviamente è stata, come dire, è naturale l'esigenza di voler lavorare anche con la destagionalizzazione del festival. Lavorare in un momento di massima come è stato quello estivo che più o meno ci ha fatto recuperare qualcosa che avevamo via via perso con tutte le chiusure che insomma normalmente abbiamo dovuto osservare, vivere tutti quanti, è stato importante. Però è stato anche importante vedere come l'analisi del turismo di fascia comunque stretta, più immediata, così come l'analisi delle abitudini dei nostri cittadini ci chiedono di essere presenti sul territorio non soltanto in estate ma anche in altri momenti dell'anno e questo poi è stato, in questo è stato proverbiale comunque la nostra città, il nostro comune di Bitonto che ci ha dato la possibilità di poter essere appunto essere presenti in questo momento anche. Infatti io proprio per evitare di dimenticare qualcuno, se ne ringraziamenti, io voglio leggere proprio dal comunicato stampa che questo evento è stato realizzato grazie al patrocino di Regione Puglia ma con il contributo di Teatro Pubblico Pugliese del comune proprio di Bitonto e poi vorrei ricordare i partner proprio dell'iniziativa ovvero l'Università degli Studi di Bari Aldomoro e il Centro Universitario di Ricerca per il Teatro, le Arti Visive, la Musica e il Cinema e io scalderei proprio con voi le parole del direttore Mario Cardona proprio del centro, sentiamo. Il CUTAMC come centro universitario ovviamente si occupa di promuovere attività che riguardano le arti visive, il cinema, la musica, il teatro ma soprattutto ha una mission io penso come direttore ed è quella di creare ponti tra l'Università e il territorio perché ritengo che in realtà l'Università non è solo un luogo dove si trova la cultura, è un luogo dove si fa cultura, dove si crea, dove si costruisce cultura e quindi non è possibile fare questo se non aprendo le porte dell'Università verso il territorio in cui quell'Università vive perché vive del suo territorio. Quindi per questo è un'iniziativa così bella come l'Oltre Lirica Music Festival è una bellissima occasione per l'Università di incontrare il territorio. Gianni io vengo da te perché voglio parlare di questo aspetto ovvero del formare alla cultura i giovani, i giovanissimi, gli spettatori perché comunque avere anche dei partner come quelli che ho citato prima è importante, sono luoghi d'eccellenza di formazione però oggi secondo me bisogna proprio spingere a 360 gradi su tutti cioè formare alla cultura per poi poter apprezzare questo tipo di eventi. In questa situazione e in questo festival in modo particolare come vi state muovendo coinvolgendo le università entrando nelle scuole insomma quali sono i vostri passaggi? Dopo i primissimi numeri del festival abbiamo sentito questa necessità cioè questo è qualcosa che o si decide di abbracciare in toto oppure si lascia, noi non l'abbiamo lasciata. Dal 2020 l'Università di Bari ci ha patrocinato l'evento e nel 2021 abbiamo cominciato ad abbracciare l'idea di poter stringere un partenariato con il QTAMC che è questo centro interuniversitario proprio in prospettiva perché nell'ambito di tutta la città metropolitana abbiamo un bacino di utenza studentesca che spesse volte è disinteressata agli eventi culturali diciamo nella stragrande maggioranza a meno che non si tratti proprio di scuole primarie dove grazie anche all'intervento degli insegnanti diverse scolaresche vengono fatte diciamo gli si viene fatta assistere ad un ad uno spettacolo teatrale ma i teenager per noi erano molto importanti. Tieni presente Maria Cristina il fatto che nel programma di Oltre Lirica c'è quello dei cameristi di Oltre Lirica noi abbiamo ottenuto delle audizioni e abbiamo scovato dei talenti musicali che sono teenager quindi noi utilizzeremo già sul palco il loro linguaggio e questo è molto importante per noi. Ma la lirica è per tutti sfatiamo questo mito perché magari uno pensa all'opera lirica e immagina solo un pubblico adulto è per tutti ci sono opere dedicate ai ragazzi. Assolutamente il linguaggio dell'opera è fatto in un certo modo ok ma bisogna adesso cercare di andare ecco oltre quando abbiamo pensato al nome quando abbiamo pensato al titolo oltre ci sembrava quello più adatto perché connotava quello che noi volevamo fare andare oltre le convenzioni andare e dimostrare che l'opera o il dramma per musica è un qualche cosa di cui tutti che tutti possono capire dai teenager ai più anziani ai più vegliardi. Se posso intervenire un attimo proprio per quello prima ci raccontavamo che nasciamo comunque avendo avuto una genesi primaria che quella operistica di spettacolo ma non ci siamo fermati lì. Quello è il nostro territorio primario di elezione perché insomma siamo un soprano, un tenore e... Come dirlo anche marito e moglie. Sì va bene diciamolo anche Sandra Mondovini, Raimondo Vianello volendo appellativo a noi molto caro anche e come vi stavo dicendo ecco torniamo un attimo e noi nasciamo essenzialmente insomma producendo attività di spettacolo operistica però ci siamo resi conto da subito anche nella ricerca nel nome che non era soltanto quella la nostra mission, quello che avevamo bisogno era proprio di fare questo lavoro di interpolazione, questo lavoro di melting pot tra linguaggi contemporanei e linguaggio classico, infatti quest'anno noi non faremo opera, quest'anno ci dedicheremo completamente a quello che è la transizione dialogica e nella comunicazione tra quello che è la musica classica e musica contemporanea. In scena quindi questa quinta edizione grazie come dicevamo anche all'impegno, al sostegno del comune proprio di Bitonto e sempre in conferenza stampa abbiamo avuto questa dichiarazione proprio da lui, da Francesco Paolo Ricci, il primo cittadino di Bitonto. Una iniziativa che destagionalizza un po' l'offerta culturale. Allora da subito appena è arrivata la proposta di questa iniziativa l'abbiamo condivisa perché riteniamo che la musica, infatti specie la musica lirica sia avvertita, ecco sia voluta dalla nostra comunità, dalla nostra città e quindi riteniamo di poter dare un'offerta ai nostri cittadini di ascoltare una buona musica, fra l'altro lo facciamo con rappresentanti anche della nostra città, ecco un prodotto fatto in casa e questo ci fa ancora più piacere. Riteniamo di aver scelto bene e quindi accanto alla prosa, accanto alla stagione di danza, accanto a un teatro per ragazzi abbiamo previsto pure questa stagione della lirica. Noi io sono molto contento, sono molto contento di questa iniziativa, auguro solo un buon divertimento davvero. E questo è l'augurio del sindaco di Bitonto per questo festival che partirà ufficialmente da cartellone il 16 novembre. Io a breve insieme ai miei ospiti vi indicherò tutti gli appuntamenti, però voglio ricordare che per chi deciderà di acquistare l'abbonamento di tutta la rassegna potrà farlo a un costo di 50 euro, mentre il costo del bilietto intero per ogni singolo evento è di 15 euro. Tutte le informazioni le potete trovare comunque sul sito www.oltrelirica.it. Ma vengo da te direttore perché facciamo un elenco di questi appuntamenti che ci aspettano. Sì, allora il 16 di novembre cominceremo con appunto un convegno che vorrà cercare di capire qual è lo stato dell'arte della musica contemporanea pugliese. Quindi facciamo un punto sullo stato dell'arte e sulle prospettive future con tre compositori pugliesi che sono Angela Montemurro, Nicola Scardicchio, Sergio Monterisi, il presidente del QTAMC, Mario Cardona, il direttore Sante Levante del Teatro Pubblico Pugliese. Insomma cercheremo di capire qual è e se c'è la possibilità di nuove produzioni musicali. Poi il 18 cominceremo la programmazione dei concerti al Teatro Traetta con i cameristi di Oltre Lirica, è un progetto nel progetto a cui noi ci teniamo veramente tanto, che ci offrirà una serata su Astor Piazzolla, completamente dedicata a questo grande compositore. Il 19 ospiteremo invece un trio di musicisti assolutamente straordinari che ci arriverà direttamente dal Reggio Calabria, appunto nella idea e nella concezione di rete, il trio Senocrito che ci offrirà un viaggio nel tempo per dimostrarci che il vecchio e il nuovo in realtà sono uguali praticamente. Passiamo direttamente al 10 di dicembre con un'esclusiva regionale, con noi ci saranno i grandissimi solisti veneti in duo, una formazione in duo, ci sarà Lucio De Gani al violino e Ferdinando Mossutto al pianoforte, che faranno ovviamente la loro parte e concluderemo il 12 di dicembre con un duo di archi che ci viene direttamente dalla Polonia e dalla Francia e Christophe Timendorf e Arnold Kaminski. E a questi appuntamenti poi si aggiungono anche dei fuori programma, perché le sorprese non finiscono mai. A questi appuntamenti si aggiungono altri due appuntamenti per i quali siamo particolarmente grati al Teatro Pubblico Pugliese, due appuntamenti di cui vi sto per parlare, sono uno del 27 novembre sempre al Teatro Tretta, Voce d'Angelo, un momento dedicato alla memoria e al ricordo di Renata Tebaldi che è stato uno dei più grandi soprani che hanno segnato la storia direi della vocalità e del dramma e della lirica italiana nel nostro secolo, io spero pertanto anche per tanti altri secoli successivi nel momento, è che il suo apporto è stato fondamentale, il suo essere donna e voce drammatica dell'opera italiana in tutto il mondo di lei. Cercheremo di darle tributo al centenario della sua nascita, ci sarà appunto questo momento dedicato a lei con Gianni, me, Angela Cuoccio e Carmine Monaco, è un baritono di fama internazionale che ospitiamo sempre qui a Bitonto al Teatro Tretta e dopo questo momento avremo ancora un altro momento in cui ci mischiamo, come piace a noi, con la musica contemporanea, ospitando Riccardo Yoshua Moretti. Riccardo Yoshua Moretti è un grandissimo compositore di fama internazionale, anche lui come il nome stesso dice, italo-israeliano, quindi ci porterà nei suoi viaggi di contaminazione tra musica classica e musica che viene comunque quella che noi tradizionalmente chiamiamo canto e suono ondo, che è quello che viene dalle frequenze dell'Oriente, terra da cui comunque lui nasce. Riccardo Yoshua Moretti ho detto che avremo con noi il 3 dicembre, sempre a Teatro Tretta, porterà la sua prima nazionale qui a Bitonto, che si chiama in un progetto, in un componimento, in una sua prima opera che avrà luce e vita a Bitonto, anime sottili. Insomma un programma davvero ricco, per chi non è riuscito a prendere appunti, io invito insomma a rimanere aggiornati sul vostro sito ufficiale che è www.oltrelirica.it, suppongo anche i canali social per seguirvi e ovviamente vi invito ad andare a teatro, perché queste sono davvero le belle iniziative che parlano del nostro territorio. Io voglio ringraziarvi per aver accettato il nostro invito, per essere stati qui con noi, Gianni Leccese, direttore artistico proprio dell'Oltre Lirica Music Festival e Angela Cuoccio, sudo ogni volta che devo pronunciare il cognome, presidente di Angeli Eventi. È stato davvero un piacere conoscere questa realtà e qui faccio una promessa, vi riaspetto a termine di questa edizione, magari facciamo un po' sintesi di quello che è stato e magari potete anche, ci potrete raccontare quello che potrebbe accadere nella sesta edizione del vostro evento. Grazie e grazie a voi. Grazie a voi. Grazie a voi.